Ben ritrovati nel canale di Simodefa. Durante il corso di questo video andrò a fare un tutorial compresso di Bidget. Prima vi andrò a fare un'introduzione a questo exchange e poi vi andrò a spiegare tutte quelle che sono le funzioni principali. Ritengo che Bidget sia un ottimo exchange, lo testimone al fatto che attualmente è in dodicesima posizione per quanto riguarda gli exchange spot, mentre in quinta posizione per quanto riguarda gli exchange derivati nel mondo. Quindi è un exchange che sta venendo molto utilizzato, è nato da poco e si è fatto conoscere prevalentemente da poco. È molto molto simile a Binance, quindi se voi avete familiarità con Binance vi sarà molto semplice utilizzare Bidget perché è praticamente uguale. Poi ragazzi una volta che impariamo ad utilizzare un exchange riusciamo ad utilizzarli più o meno tutti. Però ho trovato veramente facile l'utilizzo di Bidget e col fatto che è un'ottima piattaforma ho deciso di realizzare una serie relativa a Bidget. Il link di Bidget lo puoi trovare qui sotto nella descrizione del video. Se non sei ancora registrato, registrandosi dal link qui sotto potrai avere un 10% di sconto sulle fee a vita utilizzando gli exchange e inoltre potrai andare a partecipare a tutti i welcome bonus presenti all'interno di Bidget che vanno a regalare fino a 4.063 dollari appunto di bonus. Inoltre per seguire tutti i miei prossimi contenuti vi invito ad iscrivervi al canale e potete trovare i miei due canali telegram di riferimento qui sotto nella descrizione del video, un canale telegram dove vi aggiorno sulla situazione mia personale e un canale telegram nella quale vado a condividere tutte quelle che sono le mie analisi per quanto riguarda il mercato del forex e il mercato delle cripto. Adesso è il momento di partire con questo full tutorial di Bidget. Eccomi qui logato all'interno di Bidget. La prima cosa che c'era a sostenere è il fatto che all'interno di Bidget almeno fino a nuove direttive ci sono zero fee su qualsiasi ordine effettuato nel wallet spot e zero fee per quanto riguarda il deposito di soldi tramite third pay payment. Un'altra cosa da sostenere è il fatto che Bidget ha una riserva garanzia dei propri utenti di circa 200 milioni di dollari. Almeno questo è stato scritto appunto nel sito ufficiale di Bidget. Inoltre ha messo a disposizione anche un fondo di 5 milioni di dollari per tutti quegli utenti che avevano dei fondi all'interno di FTX ed erano dei clienti importanti per Bidget. Quindi per tutti quei clienti che avevano almeno 50 mila dollari all'interno di FTX, Bidget ha deciso di mettere a disposizione anche questo fondo di sicurezza. Quindi a livello di sicurezza mi sembrerebbe un ottimo exchange. Lo testimoniano anche le varie partnership strette in primis con Messi. Quindi Messi prima dei mondiali in Qatar che si svolgeranno a fine del 2022 ha svolto una partnership appunto con Bidget. Bidget non solo sponsor di Messi ma anche di altri club importanti come per esempio la Juventus. La prima cosa da fare quando voi vi registrate a Bidget, vi ricordo che il link è qui sotto nella descrizione del video, è andare su questo pulsante qua in alto destra e mettere in sicurezza l'account. Quindi da qua voi potrete anche andare ad inviare quelli che sono i vostri documenti di identità che vi serviranno per prelevare soldi, fondi diciamo da Bidget. Per quanto riguarda la security del vostro account voi cliccate su questo pulsante e da qua potete andare innanzitutto a vedere quella che è la vostra password e eventualmente cambiarla. Potrete andare a inserire un Google Authenticator Code. Io vi consiglio sempre di inserire negli exchange crypto un Google Authenticator Code ed eventualmente una fonda in code, una password per i depositi prelievi. Quindi ogni qualvolta voi andrete ad effettuare un deposito o un prelievo da Bidget vi richiederà questa password che sarete voi chiaramente ad aver scelto. Quindi questa è una cosa fondamentale da fare ragazzi, mettere in sicurezza il vostro account. Una volta aver messo in sicurezza l'account, quali sono i metodi con la quale noi possiamo depositare fondi all'interno di Bidget? Per quanto riguarda l'acquisto di crypto abbiamo diverse possibilità di depositare all'interno di Bidget. La prima è tramite il deposito via crypto che vi spiegherò fra poco. La seconda è tramite questo pulsante qua che si chiama Espresso. Praticamente per acquistare crypto tramite carta o tramite bonifico dovete aver, diciamo, verificata quella che è la vostra identità. Quindi dovrete andare su Espresso e da questo punto vi chiederà per esempio io voglio andare a pagare, a comprare 50 euro di criptovalute, otterrò 49 dollari con il cambio attuale e da questa schermata appunto io non ho adesso associato il KFC perché ho depositato tramite un deposito crypto all'interno di Bidget che adesso vi farò vedere. Se voi andate ad impostare quello che è il KFC vi farà appunto, diciamo, acquistare crypto tramite il trading per 2peer. Avete per esempio la possibilità di ricaricare tramite, vedete, penso che la più semplice, il metodo più semplice per depositare sia tramite Revolus oppure tramite un bonifico SEPA. Comunque per quanto riguarda l'acquisto di cripto ci sono altre piattaforme, per esempio Binance o Coinbase, che sono più semplici da utilizzare per quanto riguarda i depositi, quindi io vi consiglio se dovete effettuare un deposito in entrata magari di utilizzare un'altra cripto, un'altra piattaforma e poi inviare le cripto direttamente su Bidget. Abbiamo poi l'acquisto di criptovalute tramite pagamento di terze parti che viene supportato da questi tre provider, quindi da Simplex, Banks e Mercurio. E poi c'è il deposito bancario che appunto ci permette di depositare cripto. In questo momento non capisco perché è segnato solo BRL, ragazzi, è un po' strano il discorso dei depositi Fiat su Bidget, però non importa. Queste sono le, diciamo, tipologie di depositi, le metodologie di deposito che noi abbiamo attualmente per ricaricare l'exchange. Abbiamo poi la possibilità chiaramente di depositare criptovalute. Come si fa? Dovremmo andare sul pulsante Deposita e a questo punto ci viene chiesta la criptovaluta che vogliamo andare a depositare, per esempio Bitcoin. Nel caso noi selezionassimo appunto Bitcoin, selezioniamo poi la rete di riferimento che cambia in base all'indirizzo che andiamo a scegliere e questo sarà l'indirizzo Bitcoin alla quale noi dovremo far arrivare appunto i nostri Bitcoin. Vi ricordo che se inviate Bitcoin il trasferimento deve avvenire nella stessa rete. Quindi per esempio sugli USDT io ho diverse chain, vedete, con la quale poter andare a fare il trasferimento. Mi raccomando, controllate sempre di trasferire soldi con la stessa chain. Per quanto riguarda il prelievo di cripto abbiamo la possibilità di prelevare, vedete, o criptovalute, quindi con lo stesso principio con la quale noi depositiamo cripto possiamo andare ad inviare criptovalute. In questo caso se abbiamo dei Bitcoin all'interno di Bidget e vogliamo mandarli in un altro exchange, all'interno di questo indirizzo di prelievo dovremo andare ad inserire l'indirizzo di prelievo ricevente sulla quale vogliamo far arrivare i soldi. Chiaramente anche qua prima andando a selezionare quella che è la chain di riferimento. Vedete che qua c'è una commission fee di 3,29 dollari. Significa che se io invio Bitcoin tramite la rete Bitcoin ad un indirizzo di prelievo che gli posso andare io a dare opzionale, andrò a pagare delle fee su questo prelievo. Le fee non si possono, diciamo, escludere nella blockchain, si possono inviare criptovalute che magari hanno meno fee per il trasferimento. Quindi per esempio USDT in TRC20, ecco vedete, ha soltanto un dollaro di fee per qualsiasi trasferimento venga fatto. Su record finanziario possiamo andare a vedere tutti quelli che sono le nostre operazioni sullo spot e sul wallet, quindi sui nostri vari wallet. E su ordini abbiamo sia gli ordini pronti, quindi se noi abbiamo dei dollari, abbiamo piazzato degli ordini sullo spot, ci ritroveremo su ordini pronti qua. Chiaramente è la stessa cosa se andiamo ad effettuare degli ordini sulla sezione Futures. Abbiamo poi il pulsante trasferimento che ci permette di inviare criptovalute all'interno di Bidget, quindi assumendo di avere degli USDT appunto all'interno di Bidget, noi possiamo inviarli nei vari conti. Quindi per esempio dal conto spot li possiamo inviare al conto Futures oppure al conto Coinem Futures, diciamo di Bidget che permette di fare trading però utilizzando come collaterale la moneta scelta e non gli USDT, poi vedete all'interno di Bidget c'è anche la possibilità di fare trading tramite un margine in USDC. Questa è una cosa molto carina perché la maggior parte degli altri exchange vanno ad effettuare un trading speculativo sugli USD tramite gli USDT. Quindi possiamo, vedete, da questo pulsante andare a trasferire soldi da un wallet ad un altro. Adesso direi di andare a vedere quelle che sono le fee, diciamo, di trading all'interno di Bidget e le fee che chiaramente sono presenti anche all'interno del wallet futures. Allora, per quanto riguarda le fee sui futures c'è una commissione maker, quindi sugli ordini limite dello 0,02% dell'importo della nostra operazione. Sulle operazioni taker, quindi sugli ordini limiti, c'è uno 0,06% di fee. Principalmente è fissa, vedete, su qualsiasi crypto scegliamo come riferimento. Sullo spot trading vi dicevo appunto che c'è una commissione, vedete, di zero su qualsiasi asset. Noi andiamo a scegliere appunto perché l'exchange per il momento appunto è in promozione per quanto riguarda il wallet spot. Sulle fee di prelievo sono, ve le ritrovate diciamo all'interno dell'exchange. Prima di appunto prelevare, ve le potete vedere in base alla chain che selezionate. Chiaramente qua l'importante per quanto mi riguarda utilizzare una crypto che non ha grandi fee nel trasferimento crypto. Queste fee si possono chiaramente andare a ridurre, se noi diventiamo dei VIP o degli ambassador, riusciamo a ridurre quelle che sono le commissioni di trading anche fino a zero. Non so effettivamente come si fa a diventare degli ambassador e potete ridurre anche le commissioni di trading, quindi per quanto riguarda appunto la sezione derivati, di un ulteriore 10% utilizzando il link referral che trovate nella descrizione del video. Allora, per quanto riguarda cosa noi troviamo all'interno di budget, su asset possiamo andare a trovare quella che è la nostra composizione del portafoglio, quindi una volta che abbiamo le crypto ce le ritroveremo su asset e qua vedete abbiamo diversi conti. Abbiamo il conto spot che è il conto senza leva finanziaria, il conto futures che è quello che ci permette di effettuare operazioni con la leva, il conto earn e coupon che fondamentalmente è un conto che ci regala degli sconti nel caso appunto avessimo degli sconti. Per andare a fare operazioni all'interno del nostro conto spot, fare conversioni eccetera eccetera, dobbiamo andare su spot e spot trading. La sezione spot e spot trading cosa va a fare? Principalmente va a tradeare la criptovaluta che decidiamo di andare a tradeare con un collaterale vedete in USDT, tendenzialmente di base è preimpostato un collaterale in USDT. Come vengono effettuate le operazioni? Quindi assumendo di avere, vi faccio vedere io ho degli atom all'interno di budget, abbiamo appunto diverse operazioni che noi possiamo andare a fare. Quindi in questo caso vedete io ho 15,52 atom. Le operazioni che fondamentalmente io posso andare a fare sono delle operazioni di acquisto vendita di questa criptovaluta. Quindi se io per esempio ho questi atom e volessi andare a vendere questi atom, dovrei andare sul pulsante vedrete vendi gli atom e riuscirei tramite le tipologie di ordine che vado a scegliere a vendere gli atom. Adesso giusto per semplicità, per farvi vedere le cose dall'inizio, vendo due atom e vi faccio vedere tutto. Ok quindi vendiamo i due atom. A questo punto vedete che ho venduto i due atom e ho disponibili nel mio conto degli USDT. Appunto quello che vi dicevo prima, se noi ci posizioniamo su questa sezione che è la sezione degli USDT, per andare a comprare una determinata cripto che sia atom o che sia qualsiasi altra cripto, per ricercarla dobbiamo appunto cercare da qua la nostra criptovaluta, utilizzeremo del margine. Ok quindi per andare a comprare questa cripto utilizzeremo USDT. Le tipologie di operazioni che noi possiamo andare a fare all'interno della sezione spot, per farla molto semplice, sono due. Quindi abbiamo o l'operazione a mercato, per esempio ho 20 dollari disponibili, voglio andare a comprare 20 dollari di atom. Compro al livello di prezzo attuale, al livello dei 10,04. Questo chiaramente è il grafico della criptovaluta che vado a scegliere. Se vado a scegliermi Ethereum chiaramente vedete, cambierà il grafico. Questi sono il registro degli ordini, quindi l'ordel block, ma le nostre operazioni vengono fatte tutte da qua. Quindi se io volessi andare per esempio a comprare dei Ethereum a prezzo di mercato, adesso sono sul chart di Ethereum, dove dovrei andare a selezionare appunto la quantità di dollari che voglio andare a comprare in Ethereum e andare a dare il pulsante di acquista. Chiaramente posso sia andare a comprare dal livello di prezzo attuale, sia posso andare a comprare per esempio con un ordine di prezzo più basso del livello di prezzo attuale. Quindi adesso Ethereum è scambiato a 1.195. Se io volessi andare a comprare Ethereum a 1.185, per esempio, dovrei selezionare un ordine al limite. A che prezzo, quindi a che valore di Ethereum? A 1.875 dollari e scusate 1.175 dollari e di quanto grande la voglio aprire questa operazione, la voglio aprire del massimo, ok? Quindi la voglio aprire del massimo, cioè 19,975 dollari, comprese le commissioni. Quindi ho la possibilità sia di comprare tramite un ordine a mercato, sia ho la possibilità di comprare tramite un ordine limite, ok? Principalmente da questa schermata noi riusciamo tramite un collaterale a comprare nel nostro wallet spot una determinata criptovaluta, che sia Ethereum o qualsiasi criptovaluta decidiamo di andare a scegliere. Chiaramente stessa cosa, una volta che abbiamo comprato questa criptovaluta all'interno del wallet spot, possiamo selezionare dei livelli di vendita, quindi per esempio dei livelli di take profit, quindi in questo caso per esempio io ho 13,52 atom. Se gli atom mi raggiungono i 13 dollari, ad esempio, voglio andare a vendere tutti questi atom. Quindi vado a selezionare un ordine limite, a che prezzo? A 13 dollari di tutta la quantità di atom che ho a disposizione nel mio conto. Inserendo questo ordine, quindi ve lo vado ad inserire, ok? Vado ad inserire questo è un ordine limite. Cosa succede? Succede che, vedete, io ho un ordine attivato che mi andrà a vendere questi 13,5 atom che io ho a disposizione nel wallet spot se il prezzo appunto di atom andrà a raggiungere i 13 dollari. Se il prezzo raggiunge questi 13 dollari, io con questi 13,5 atom andrò a ritirare 175 dollari, ok? Ok, così è come funziona principalmente il wallet spot e una conversione all'interno del wallet spot. Avete capito che potete andare a selezionarvi appunto sia un ordine mercato sia un ordine limite. Le criptovalute che andiamo ad acquistare all'interno di questa sezione, quindi dello spot trading, sia che utilizziamo un collaterale in USDT, sia che lo utilizziamo in USDC, sia che lo utilizziamo in VRL che è la criptovaluta dell'exchange budget, sia che utilizziamo un collaterale in Bitcoin, sia che utilizziamo un collaterale in Ethereum, ecco, ce le andremo a ritrovare, le criptovalute, ce le andiamo a ritrovare all'interno del nostro wallet spot. Molto semplice, ok? Così è come noi riusciamo a comprare cripto all'interno del wallet spot. Adesso vi faccio un'introduzione a quello che è il wallet futures, anche se poi ve ne parlerò bene in un altro video. Quindi all'interno della sezione futures, che è la sezione che ci permette di tradare Bitcoin e crypto con leva finanziaria, abbiamo diverse categorie di futures. Abbiamo i futures in USDT, che quindi utilizzano un collaterale in USDT. I futures in USDC, che utilizzano un collaterale in USDC, fondamentalmente non cambia niente, semplicemente cambia il collaterale che utilizziamo nel nostro trading. Abbiamo i futures coin, che utilizzano come collaterale la stessa criptovaluta. Quindi dovremo andare non a depositare USDT nella sezione futures, ma direttamente, per esempio, se vogliamo utilizzare con la coin come margine, Bitcoin o Ethereum o qualsiasi cripto vogliamo andare a depositare. Il trading sui futures coin è un trading più avanzato che si utilizza prevalentemente per andare a, non lo so, parare delle eventuali cadute di prezzo di una criptovaluta. Quindi, non lo so, assumendo di avere dei Bitcoin all'interno dei wallet spot, diciamo, beh, io li vado a mettere all'interno dei wallet futures, li mantengo in holding, ma allo stesso tempo posso andare ad effettuare delle operazioni speculative a rialzo o a ribasso utilizzando appunto il margine stesso in Bitcoin. Diciamo che è un po' più complicato, raga. Io vi consiglio di tradare sempre con un margine in USDT. Per i futures coin, insomma, servono delle strategie di trading un pochino più avanzate. Abbiamo il futures grid trading, che sinceramente non l'ho mai utilizzato molto. Abbiamo la possibilità di provare tutte le operazioni che noi possiamo andare a fare all'interno della sezione futures, sia che sia il futures coin, sia il futures USDC o USDT, all'interno di una sezione demo. Ok? Ve la ritrovate qua e da qua potete inserire un capitale demo con la quale fare trading ed operare. Andiamo nella sezione dei futures USDT. Io vi faccio vedere questa, poi appunto uscirà un video a riguardo dove vi spiegherò bene tutto. Principalmente ragazzi, queste sono le coppie che noi possiamo andare a tradare. Ok? Quindi stessa cosa, ce le possiamo andare a trovare qua in alto a sinistra e ce la selezioniamo. Assumendo di metterci in Bitcoin. Ok? A questo punto noi, vedete che io ho 0 dollari perché chiaramente non ho inviato dei dollari all'interno del mio conto futures. Quindi dovrò andare ad effettuare un trasferimento, per esempio, del conto spot. Vi ricordate che avevo questi 20 dollari al conto futures. Quindi vado a trasferire e me li ritrovo appunto qua. A questo punto abbiamo anche qua due tipologie di operazioni principalmente. Gli ordini a mercato e quindi che mi vanno a comprare Bitcoin dal prezzo di mercato. Chiaramente la prima cosa da andare a fare è selezionare quella che è la leva finanziaria. Quindi qua sopra vedete che c'è il pulsante lungo 125. Significa che andando a fare questa operazione stiamo utilizzando una leva di 125. Possiamo modificare tranquillamente la leva finanziaria appunto cliccandoci sopra. Abbiamo poi la possibilità di tradare tramite un margine isolato o un margine cross. Il margine isolato tiene il margine indipendente un'operazione dall'altra. Quindi nel senso non si vanno ad intaccare i margini cumulativi. Con il margine cross il margine quindi appunto noi abbiamo un margine in dollari che ci serve per andare a fare trading viene calcolato assieme sulle nostre operazioni e c'è il rischio che se magari un'operazione va male ok potrebbe andare ad intaccare il margine di un'operazione che sta andando bene e di conseguenza farla chiudere. Con il margine isolato noi apriamo un'operazione e il margine per esempio abbiamo 50 dollari disponibili ebbene diciamo di mettere 30 dollari a margine per un'operazione e 20 dollari a margine in un'altra e non c'è il rischio che appunto un'operazione venga chiusa perché un'altra sia andata in negativo. Quindi io vi consiglio di tradare tramite l'isolato. E principalmente qua ragazzi vedete abbiamo la possibilità di selezionare anche qua tutta la quantità la quantità diciamo di moneta da comprare o vendere. Chiaramente stiamo utilizzando una leva finanziaria quindi in questo caso vedete se io seleziono al massimo con una leva di 51 vado a comprare 0,059 bitcoin. Se io selezionassi una leva per esempio doppia ok starei andando a comprare il doppio di bitcoin ok. I derivati sono una sezione che vi consiglio di dare solo se siete esperti e se inserite uno stop loss all'interno delle vostre operazioni. Per andare ad inserire uno stop loss dovete fondamentalmente prima selezionare quelli che sono appunto i vostri valori quindi volete fare un'operazione a mercato o volete fare un'operazione limite. E poi vedete che qua sotto c'è questo pulsante take profit e stop loss segnando il valore di take profit e stop loss quindi per esempio inserendo come livello di profitto i 16.700 dollari livello di stop loss i 16.400 dollari ok. Automaticamente saranno inserite all'interno della mia operazione anche gli ordini di stop loss e di take profit ok. Chiaramente ragazzi più la vostra operazione è grande a livello di quantità ok. Più riuscirete a comprare moneta ok. Lo stop loss e il take profit vi servono per limitare quelle che sono le perdite però per calcolarvi quanto voi andate a rischiare nello stop loss ed eventualmente quanto andate a vincere nel take profit diciamo vi farò vedere tutto in un video relativo appunto dettagliato sui futures. Comunque vedete abbiamo la possibilità di sia comprare sia vendere tramite un ordine limite o un ordine a mercato. Poi da questo pulsante c'è la possibilità di effettuare trailing stop quindi inserire uno stop loss o un take profit che vanno a seguire in percentuale la nostra entrata. Per quanto riguarda come funziona il trailing stop ve lo spiegherò nel prossimo video nella quale vi andrò a spiegare bene questi derivati. In ogni caso ragazzi spero che voi abbiate capito un po' come noi trasferiamo i soldi dalla sezione spot alla sezione derivati in modo di fare trading principalmente uguale abbiamo però sulla sezione derivati la possibilità di andare chiaramente ad inserire uno stop loss ed un take profit. C'è poi nella sezione dei derivati un pulsante molto interessante che è il pulsante del trading stop che appunto vi andrò a spiegare nel prossimo video. Abbiamo poi la possibilità di calcolare i profitti e le perdite direttamente dalla schermata di trading di budget quindi cliccando qua su calcolo di futures ci serve principalmente per calcolare i nostri nostri valori di stop loss e take profit però vi insegnerò un metodo più veloce ecco nel prossimo video. Quindi questi sono i futures. Abbiamo poi un'altra sezione importantissima e diciamo che budget è leader in questa sezione che è la sezione del copy trading. La sezione del copy trading ci permette di tradare dei trader, vedere le ROI quindi le performance che questi hanno fatto in passato e potenzialmente guadagnare semplicemente andando a mettere a rendita il nostro capitale. Quindi noi mettiamo un capitale, andiamo a seguire per esempio questo team win, vedete ha 48 posti disponibili su 1000, tanti sono esauriti e se noi appunto decidiamo di andare a seguire questo trader possiamo andare a vedere innanzitutto tutte quelle che sono le sue performance. Possiamo andare a vedere cosa apre quindi in questo caso vediamo lui apre solo bitcoin, ethereum, possiamo andare a vedere tutti i trade, quanto sono durati, se appunto il trader è andato in profitto o perdita. Per esempio nell'ultimo mese ecco questo trader è partito con 778 dollari ed è arrivato a 969. Chiaramente il passato non è garanzia di futuro però può essere interessante mettere un capitale a rendita senza far niente appunto un'altra persona trade i nostri soldi e ci viene riconosciuto il profitto o la perdita, chiaramente una commissione andrà al trader di riferimento. Quindi se per esempio andassi su segui chiaramente qua ti vanno a far firmare il regolamento e ti dicono che garanzie passate non sono garanzie future però vedete io posso andare a selezionare la quantità di dollari che voglio andare a immettere all'interno della sezione copy trading per far copiare questo trader e andando su successivo mi permetterà appunto di collegare il mio capitale al suo e di replicare diciamo tutte quelle che sono le sue operazioni. In questo caso vedete il trader si va a tenere il 10 per cento del profitto che noi andremo a realizzare appunto copiandolo. Quindi c'è una piccola percentuale che noi dobbiamo lasciare al trader di riferimento. Comunque per la sezione dei copy trading vi ritrovate tutti qua quindi da qua voi potete dare un'occhiata a tutti quelli che sono i trader, guardare che asset tradano, diciamo potete controllare le performance del passato. Chiaramente vi ripeto performance del passato non significa che vadino ad effettuare le stesse performance anche in futuro. Quindi questa è la sezione copy trading. Poi abbiamo un'ultima sezione anche per quanto riguarda il copy trading farò un approfondimento dove vi farò vedere magari proverò un copy trading di diversi trader appunto, metto un capitale a seguire e vi farò vedere appunto quelle che sono le mie performance. Entreremo dentro, vi farò vedere come appunto mettere un capitale, ci prenderemo l'esempio di un trader, andiamo a vedere questo trader quanto guadagna, come guadagna, che statistiche, che rendimenti va ad effettuare eccetera eccetera. Abbiamo poi un'ultima sezione interessante che è la sezione earn, quindi la sezione dello staking. Nello staking noi abbiamo principalmente uno staking su diverse criptovalute, lo staking quindi l'interesse non è altissimo, ok? Quindi vedete abbiamo una PR per esempio sullo staking flessibile su Bitcoin dell'1,09%, sugli USDT per esempio vedete abbiamo un 10% fino a quando mettiamo in staking 100 dollari. Quindi diciamo che così come per qualsiasi altro exchange bisogna un pochino andare a confrontare quelli che sono gli APR dei vari staking per andare a fare una selezione. L'offerta presente all'interno di Bidget sicuramente è buona. Abbiamo appunto sia il risparmio flessibile, quindi le possibilità di andare a mettere i soldi sullo risparmio flessibile che ci permette di levare, ci permette di levarli quando vogliamo, sia la possibilità di andare a mettere in staking i BGB che sono i token dell'exchange Bidget che chiaramente vedete cercano di pompare quello che è il PR dello staking di questo token perché in questo modo fondamentalmente le persone vanno ad investire nella stessa azienda di Bidget e poi abbiamo una sezione Launchpool, Launchpool scusate, nella quale vengono lanciati tutti quelli che sono i nuovi progetti che verranno listati all'interno di Bidget. Quindi per esempio vedete questo è l'ultimo progetto lanciato il 13 di giugno, Revoland, che dava la possibilità di mettere a disposizione, vedete, che metteva a disposizione 2000 ticket per un controvalore di ciascun ticket di 75 Revo che è il token appunto rilasciato. Quindi quando ci sono dei Launchpad io magari vi avviserò, noi basterà entrare in questa sezione, abbiamo la possibilità di comprare un ticket o di richiedere la partecipazione al Launchpad e se siamo vincitori ecco, ci verranno dati i token della criptovaluta che si è nata a far pubblicità, che è nata ad effettuare appunto il proprio lancio all'interno di Bidget. Abbiamo poi una competizione per i mondiali di calcio che se siete interessati potrei andare a condividervi comunque una competizione di trading, ecco, se volete partecipare potete partecipare. Ragazzi, io con questo video spero di avervi riassunto bene tutte quelle che sono le funzionalità e le sezioni presenti all'interno di Bidget. Per qualsiasi dubbio o domanda rimango a disposizione nei commenti. Io lo ritengo veramente un ottimo exchange, facile da utilizzare e che ha tante tante funzioni al suo interno. Quindi se state cercando un exchange valido sia per quanto riguarda il Wallet Spot, appunto ci sono zero fee nel Wallet Spot, sia per quanto riguarda i derivati, che appunto abbiamo visto come all'interno dei derivati noi possiamo andare a fare trading fino a 125 per, sia un exchange valido per il copy trading e perché no anche per l'off taking, in Bidget potete trovare veramente una buona soluzione. Io vi lascio il link di Bidget qui sotto nella descrizione del video, vi ringrazio per l'attenzione e se mi avete seguito fino a questo momento, e quindi colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al canale, se non lo siete già in questo modo potrete seguire tutti i miei prossimi contenuti. Da Simodefa anche per oggi è tutto, quindi noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video.